ci riproviamo riproviamo con la diretta si ricomincia anche con i ban ogni dubbio è lecito forse la rete ma ogni dubbio è lecito però la cosa è chiara si ricomincia con le mascherine a modena circolare di questa mattina incredibile che mi è stata inviata da varie da varie fonti in più me l'hanno detto a quel punto dovuto verificare e noi del paragone punto di siamo molto attenti a queste cose amici pensate nel comune di sinistra nella provincia di sinistra del pidina l'usl ha mandato una circolare questa mattina dove ha confermato che le mascherine verranno ripristinate in tutte le strutture ospedaliere ambulatorie quant'altro non solo per il personale socio sanitario ma anche per i visitatori e gli ospiti attenzione attenzione ritorniamo in paschetta vi chiedo di condividere perché prima è saltata chissà perché ogni dubbio è lecito la diretta stavo per leggere la circolare o la circolare che tra parentesi dell'usl quindi la circolare reale dovranno anche fare un comunicato stampa per giustificare questa relazione questa questa decisione presa in relazione a uno scenario pandemico del covid 19 dopo che l'oms ha detto tutto è finito no è stato ripristinato siete pronti andiamo al sodo condividete è bloccato mi dicono bloccato di nuovo bloccato di nuovo bloccato di nuovo incredibile amici incredibile questo è un blocco che non è la rete a questo punto non è la rete c'è qualche che me lo blocca andiamo però a vedere guardate la circolare oggetto aggiornamento delle indicazioni in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie questa mattina è arrivato anche se il provvedimento l'aggiornamento del 15 giugno 2023 mi hanno confermato che è arrivato questa mattina oggi 11 agosto 2023 facendo in seguito la nota della regione emilia romagna del protocollo pinco pallino pluto aggiornamento del 15 giugno 2023 si riportano in seguito le indicazioni aggiornate per l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tenendo in massima considerazione la situazione di fragilità presenti all'interno delle strutture sanitarie in relazione all'attuale scenario di pandemia da covid 19 andiamo cambiamo slide cambiamo slide la guardiamo insieme operatori guardate chi sarà obbligato ad usarle perdonatemi questa qua operatori è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti i contesti essenziali sanitari reparti con degenze ordinari e diurna dei ospita hospital osco ambulatori assistenza domiciliare sono inclusi inclusi agli spazi comuni e le sale d'attesa è obbligatorio indossare la facciata filtrante ffp2 presso il pronto soccorso il 118 addirittura ffp2 è obbligatorio indossare il facciale filtrante ffp2 per l'assistenza dei pazienti con sospetto accertate infezioni da sars cov2 si ricorda inoltre che l'utilizzo delle facciate filtranti almeno ffp2 e ffp3 sulla base della valutazione del rischio è sempre obbligatorio durante le procedure che generano area sol durante l'assistenza dei pazienti con sospetto accertato infezione e quindi la ffp3 qua parliamo ffp2 ffp3 negli altri contesti lavorativi l'uso della mascherina chirurgica è sempre consigliato in particolare in corso di attività che prevedono la partecipazione di più persone nel corso di un in cui lavoratori si trovi in autosorveglianza in quanto contratto da infezione sars cov2 poi andiamo nella terza slide amici terza slide guardate utenti ecco gli utenti utenti quindi noi cittadini noi cittadini è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica nelle sale d'attesa in tutti i contesti assistenziali si precisa che non sussiste l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle via risperatore per i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso di altro dispositivo visitatori e accompagnatori attenzione attenzione è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti i contesti essenziali incluse le sale d'attese le indicazioni per gli operatori si applicano a tutti i lavoratori dell'azienda usl a prescindere dalla tipologia di contratto di appartenenza amici ci risiamo ci risiamo per usl di modena la situazione delle attuale pandemica richiede l'utilizzo nuovamente in tutti gli ospedali ambulatori quant'altro delle mascherine ffp1 ffp2 ffp3 chirurgiche quello che amici è tutto vero è tutto vero l'oms appena dichiarato che fine chiusa la pandemia e l'usl di modena obbliga le mascherine per la situazione pandemica amici ogni dubbio è lecito secondo me qualcuno ed è il mio parere secondo me qualcuno forse forse si è fritto il cervello ditelo voi condividete commentate ciao a tutti